Si è svolta nella sede del Comitato Italiano Paralimpico di Basilicata a Potenza una cerimonia di consegna delle onoreficenze sportive per il 2022. La premiazione rientra nell'ambito del consueto appuntamento delle cerimonie di consegna delle benemerenze sportive che è stata organizzata dal CONI Basilicata e che si è svolta lo scorso 1 dicembre a Tito. Un appuntamento annuale per premiare i dirigenti, tecnici, atleti e società che a vario titolo si sono distinti per meriti sportivi, organizzativi e dirigenziali. Gli atleti paralimpici lucani, che in quella data non hanno potuto partecipare alla manifestazione perché impegnati in gare o allenamenti fuori regione, hanno ricevuto i premi in una cerimonia speciale a loro dedicata alla presenza del presidente CIP Basilicata Gerardo Zandolino, del presidente del CONI Basilicata Leopoldo Desiderio, del presidente della FISDIR Basilicata Antonio Iallorenzi e di altri dirigenti. Gli sportivi premiati sono stati il campione paralimpico di sollevamento pesi Donato Telesca che ha ricevuto la medaglia di bronzo al valore atletico, il neocampione italiano di tennis categoria Open FISDIR Michele Curto e Federico D'Andrea, atleta di calcio a 5, da sempre impegnato a livello sociale e sportivo nella comunità Sordi di Potenza. Il comitato è fierissimo di loro, siamo felicissimi di avere queste eccellenze in Lugania e sono ragazzi che devono essere tutelati, protetti, incoraggiati. Devono essere sempre incoraggiati a migliorarsi, a diventare più tecnici. Sono contento che avevo vinto il titolo nazionale e sono anche fiero di aver stato accolto da una famiglia grande della FISDIR e della Basilicata e del Comitato Italiano Paralimpico e del CONI. Sì, oggi è un grande giorno perché appunto è il primo riconoscimento di questo calibro e spero appunto che sia il primo di una lunga serie e ovviamente spero che appunto l'impatto che stiamo portando avanti, stiamo creando cresca sempre di più e comunque possa dare sempre più esempio alle nuove generazioni, alle persone, magari anche ai ragazzi in difficoltà. Una targa speciale è stata conferita anche a Giulio Spadafora, primo maestro di tennis di Curto.